Ben tornati in studio, intendiamoci compagnia, torniamo ad occuparci del comparto vigilanza e servizi fiduciari, torniamo ad occuparcene perché la trattativa per il rinnovo del contratto è ancora arenata e noi ascoltiamo quelle che sono le voci dei lavoratori, lo facciamo questa mattina con Roberto Favali che è un operatore tecnico sicurezza, buongiorno Favali, stipendi fermi da 10 anni con maggiori sovraccarichi di lavoro, 10 anni però in cui il costo della vita è esponenzialmente aumentato e il potere di acquisto naturalmente per chi lavora come voi in questo settore è notevolmente rossicato. Ecco, detto questo, raccontiamo, noi ci siamo fermati l'ultima volta, la scorsa settimana ad un presidio in prefettura, ci sono stati sviluppi da allora? No, al momento non c'è stato nessun tipo di sviluppo, quindi c'è il silenzio più assoluto da parte della nostra controparte, delle aziende e in questo momento stiamo valutando varie iniziative poi da prendere nelle varie sedi, quindi stiamo ragionando su come muoverci. La cosa fondamentale di questa, al di là della trattativa sindacale in sé, che ci vorrà un pochettino di tempo, è che stiamo parlando di un comparto che occupa in Italia censite circa 1800 aziende e parliamo di 80-85 mila lavoratori censiti. Il problema è che poi le aziende sono molto di più, perché potremmo arrivare a sforare i 2000 e i lavoratori potremmo iniziare a dire che sono oltre i 100 mila, questo perché? Perché abbiamo sì gli istituti seri, censiti eccetera, ma abbiamo anche una valanga di piccole agenzie, addirittura anche le agenzie interinali prestano questa manodopera e tutti questi lavoratori qui non hanno assolutamente né tutela sindacale né altro tipo di protezione. Parliamo per esempio della persona che siamo abituati a vedere davanti al supermercato, è una persona che magari con l'agenzia ha 3-4 persone, questo non si rivolgerà mai a un sindacato o se si rivolge perché chiede l'anonimato, è una persona che a volte sono stranieri. C'è un mondo dove c'è anche tanto sommerso? Il sommerso è infinito perché noi partiamo da questa figura qui, senza nulla chiaramente togliergli alla sua dignità di lavoratore, sino ad arrivare all'operatore tecnico di sicurezza che può essere dal guardia fuochi che è chiaramente specializzato e formato o all'operatore tecnico che lavora che so in un ambito portuale dove iniziamo a avere delle specifiche, vuol dire dover controllare dei passaporti, dei documenti, vedere delle bolle di carico dei mezzi. La responsabilità è alta, anche perché specialmente nel porto abbiamo visto che tutto quello che una volta erano i compiti della Guardia di Finanza non ci sono più, quindi abbiamo personale privato, dalle guardie agli OTS che svolgono questo tipo di attività, dove sbagliare poi è un attimo, la formazione è carente e alla base di questo noi teniamo sempre il famoso principio della quantità e quantità, qualità e quantità dell'attività che non è assolutamente remunerata per quello che realmente facciamo. A proposito di questo, ed è un dato istat, quindi non pensato da Favali o da Sara Tagliente, e parliamo di un dato che vede i vostri stipendi che variano dai 700 ai 1000 Euro mensili al limite o sotto la soglia di povertà. Sì, questo è un dato istat, che chiaramente siamo sotto la soglia di povertà, la cosa che a questo punto dovremmo dire che è vergognosa è che tutto questo genere di attività che noi svolgiamo è presso enti pubblici o enti abbastanza grossi, parliamo delle ASEL, parliamo dell'ospedale, delle stazioni ferroviarie, dell'ambito portuale, non stiamo parlando del privato o del portinaio di un palazzo, sempre senza nulla togliere, ma stiamo parlando di coloro che dovrebbero tutelarci di più, invece se ne fregano altamente. Cioè il nostro committente, quello che ha detto il cliente, spesso ignora questo tipo di problematiche, ma tante volte sappiamo che ne è ben conscio e ne sta fuori, anche perché aver formato con la riforma Maroni tutto questo discorso degli OTS vuol dire aver creato delle figure che possono essere utilizzate in centinaia di modi, questo vuol dire che le aziende non assumono direttamente, si rivolgano a terzi, il problema rimane a terzi, e le nostre figure sono inquadrate in un contratto, quello scaduto praticamente da sette anni, ma noi parliamo di dieci, che non dice niente. Beh anche perché sette anni fa si faceva riferimento ad una griglia comunque di stipendio. Sì, sette anni fa è scaduto, è stato fatto praticamente dieci anni fa. Quindi molto più niente. Gli articoli che compongano poi questo contratto, che non è altro che un appendice al contratto delle guarie giurate, dice solamente che noi potremmo svolgere tutte quelle attività che non sono riconosciute per le guarie giurate. Vuol dire tutto e vuol dire niente. Quindi occorre, sarebbe meglio una riforma generale al di là di parlare di contratto, dove si dica, dividendo per le varie categorie, vedere le mansioni e vedere il rapporto economico e andare anche a stabilire determinate cose, perché noi oggi il livello un pochettino più evoluto dell'operatore tecnico non è altro che una guaria giurata che è travestita, perché la divisa è la stessa, i compiti sono gli stessi, si richiede per esempio la videosorveglianza, che non è un'attività sicuramente che riguarda l'operatore tecnico. E via dicendo, potremmo fare centinaia di esempi su questa cosa qui. Quello che manca è chiaramente anche il cosiddetto controllo delle istituzioni o delle autorità preposte, che controlli in questo genere non ce ne sono, né da parte degli ispettorati per vedere se effettivamente la nostra distribuzione vale quello che noi facciamo o sotto l'ordine anche della PAS, della Polizia Amministrativa. Ecco perché, insomma io stessa non lo immaginavo, ma il vostro mondo è così vasto che dall'attività di vigilanza si va ai servizi fiduciari, tra i servizi fiduciari c'è anche una differenza naturalmente con la guardia giurata, insomma si tratta di un mondo di figure professionali diciamo diverse tra loro e complesse, per cui più che di rinnovo si dovrebbe riscrivere proprio la norma. Assolutamente. Tenga presente che il cosiddetto operatore fiduciario opera dai servizi di sicurezza a bordo delle navi, navi che non è che fanno la tratta da Genova a Portofino, navi che magari fanno la tratta da Genova a Tangeri o da Genova a Mediterraneo. Certo, coprono tutto il Mediterraneo. Sono persone che lavorano nel supermercato, perché non dimentichiamoci di loro, sono lavori che lavorano in ambito portuale, lavorano negli ospedali, questo vuol dire il rischio Covid e se apriamo una parentesi sul discorso Covid guardiamo tutte quelle figure che si sono inventate per la necessità, quindi gli operatori che controllavano la temperatura, sono tutte cose che hanno portato a un incremento delle figure, quindi quando noi diciamo 100.000 saranno anche di più e non sono assolutamente censite. Voi avete in mente delle iniziative o comunque pensate di andare avanti naturalmente nella protesta? Il 19 noi adesso avremo una riunione e di lì inizieremo a capire come ci andremo a muovere, che tipo di proteste andremo a fare. Un'altra cosa che bisognerebbe anche evidenziare, sì noi siamo andati in prefettura, la prefettura ci ha dato ascolto, però tutte le altre istituzioni, parliamo della regione, anche la regione potrebbe nel suo campo iniziare a vedere un attimino, perché la stessa regione ha gli operatori di sicurezza, cioè volendo bisognerebbe anche accendere un attimo una luce su tutto l'apparato, perché se noi pensiamo quante sono le forze di polizia in Italia e quante sono le persone che garantiscono la sicurezza a livello privato, penso che ce la giochiamo abbastanza bene, per quello che occorrerebbe una riforma adeguata alle figure, una preparazione e chiaramente una retribuzione, perché noi andiamo là per giocare. Quanta consapevolezza c'è nella vostra stessa categoria della situazione? Immagino molta, perché in realtà è una vicenda che tocca il quotidiano, la busta paga quando la si riceve alla fine del mese. Tenga presente che… Con 700, 1000 Euro, se si hanno dei figli, se si hanno una famiglia, non è… Praticamente problematiche sotto questo livello ce ne sono tantissime, perché se noi prendiamo il livello dei 700 Euro, che è un livello di entrata, ma è anche un livello che tante persone hanno, perché allora dovremmo andare poi a parlare di quelle che sono le piccole società, le piccole agenzie, dove magari la persona è assunta part time, è assunta con dei livelli che sono indegni, dove la stessa divisa gliela fanno comprare, sono sotto ricatto, perché come fanno queste persone a fare una denuncia se hanno un contratto che ogni 3 mesi viene rinnovato? È impossibile, cercano di sopravvivere, di qui abbiamo persone che una casa non se la permetteranno mai, perché è un affitto, ci vuole almeno 500-600 Euro senza andare chissà dove, come fa una persona che ne ha 700? Se deve comprarsi una macchina o deve andare in una banca per chiedere un finanziamento, non glielo daranno mai, quindi tutte queste figure qui cosa fanno? O vivono con i genitori, perché tanti sono ragazzini giovani che sono presi così, nell'attesa di trovare di meglio, e persone diversamente che possono avere un'età diventa problematico, o hanno una moglie che lavora o hanno degli aiuti esterni, ma la situazione è abbastanza grave sotto questo profilo, perché noi guardiamo il livello dove ci siamo quelli che stiamo meglio, siamo quelli più fortunati, perché abbiamo delle postazioni di lavoro che sono ancora decenti, ma tutto quello che poi c'è sotto sono postazioni di lavoro che non esistono, sono vecchie guardiole, sono dei sottoscala, non c'è proprio il rispetto della dignità di queste persone che lavorano. Infine cosa chiedete all'opinione pubblica, alla vicinanza, comunque solidarietà? Ma guardi, più che la solidarietà, che quella fa sempre piacere a tutti, noi vorremmo che ci fosse conoscenza di questo livello qui, come nel nostro settore chiediamo una cultura alle varie persone, vorremmo che l'opinione pubblica abbia una conoscenza, sia conscia che il settore è ampissimo, perché poi queste persone quando smarriscano la borsa, quando hanno un furto, hanno una cosa, da chi vanno? La prima cosa vanno da queste figure, quindi servono anche, c'è anche un'utilità sociale al di là della mansione che svolgano. Quindi è giusto che abbiano un dignitoso posto lavorativo. Grazie, grazie a Roberto Favale, operatori tecnico sicurezza, grazie a voi per essere stato con noi e noi conteniamoci compagnia, torniamo tra pochissimo.